ed eccoci qua eccoci qua sempre di notte sempre in silenzio e sempre con il microfono e la cam accesi allora stanotte volevo partire leggendovi qualcosa un pezzo del mio libro cronache di un assenza il pezzo si intitola e poi arriva gg gag gg gag per chi non lo sa pochi spero è un musicista dance molto molto famoso soprattutto anni 80 90 insomma 2000 anche sarebbe bello mentre leggo questa cosa che metteste una qualsiasi canzone sua una a caso tanto sono più o meno tutte uguali ed è questo il bello tastierone tastiere potenti prepotenti ignoranti insomma musica bella musica da tagadà musica da ballare allora e poi arriva gg gag era un giorno di gennaio e io ero nella casa nuova a individuare quale poteva essere il mio nuovo percorso emozionale per percorso emozionale intendo una breve tratta andata ritorno da fare in modo ossessivo compulsivo mentre penso al famoso tutto e niente e da ripetere fino a quando le gambe mi dicono coglione vati a sedere il tratto può essere bagno camera soggiorno bagno soggiorno terrazzo eccetera 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 insomma come limite solo la fantasia nel frattempo piangevo perché quelli come me piangono e non se ne vergognano mai piangono e si fanno vedere anche se gli altri fanno finta di non vedere perché se nascondi sempre tutto alla fine esplodi ed esplodere non risolve le cose mai piangono piangono per i brutti finali che devono vivere ma anche per quelli belli che si inventano quando vorrebbero cambiare le cose comunque per rendere più teatrale il tutto stavo chiedendo a siri di cercarmi musica da pressa per gente da pressa quando sento in lontananza un suono di tastiera sempre più forte sempre più forte sempre più forte apro la finestra per sentire da dove arriva e all'improvviso a un volume osceno vengo investito da un o o in questo caso ci sarebbe la melodia dell'ho però non me la ricordo un lapsus momentaneo ansia o o o o o o o o sto separietto molto non è stato il massimo sto separietto però lo tengo insomma qualcuno stava ascoltando a tutto volume l'amour toujours di gigi dag e distinto stavo per chiudere la finestra perché non avevo voglia di musica ignorante ma all'improvviso comincio a muovere ritmicamente la testa sempre di più sempre di più sempre di più in pochi secondi sembro un tarantolato e comincio a cantare o meglio a fare anch'io o o o o o o o mi mancava solo il bomber dell'avirex un paio di pantaloni a vita alta il moncler tarocco e sarei tornato a essere quell'adolescente che del futuro aveva un po meno paura sempre testa alta e vabbè non occorre che dica tutto dai in ogni caso il pianto era sparito e al suo posto avevo ritrovato un bel sorriso sul mio volto ed era da un pezzo che non ne vedevo uno gigi dag aveva fatto il miracolo e mi piacerebbe dirvi che da allora lascio sempre una finestra aperta in attesa che un'emozione ignorante mi venga a trovare ma il fatto è che col cazzo che voglio prendere freddo però dai è stato un buon inizio perché ho letto sta cosa qua perché volevo un po parlarvi brevemente però non mi annoio della casa dove vivo dove vivo da fine dicembre 2020 è stata una cosa improvvisa ero qui la vigilia di natale da solo l'ho già raccontata non torno tanto su questo argomento qua mi ricordo che ero arrivato qua e non avevo proprio per sopra per sopravvivere è una questione di sopravvivenza dove venire il prima possibile e così è stato infatti non ho non avevo ancora pronto niente avevo solo l'albero di natale enorme piano di il che avevo preso e anche avevo un robot un robot quelli che puliscono per terra da soli no che prendono le briciole quella cosa la una delle cose più inutili che ho preso cioè a volte delle cose uno si rende conto sempre dopo purtroppo ricordo che ero ero la avevo messo in una busta dell'ikea quelle giganti blu un po di cose e niente ripeto è stata una questione di sopravvivenza ed ero ero seduto non avevo ancora niente di mio non avevo ancora la mia poltrona tecnologica mio mega televisore del cazzo cose del genere ero là mi ricordo che ero seduto e e adesso che cazzo faccio cioè cosa faccio qua adesso io dirvi che non è stato semplice è scontato come sono scontate altre cose che potrei dire adesso diciamo che non mi sono rimboccato le maniche perché questa casa l'ho resa a immagine e somiglianza mia un po di settimane mesi aggiungevo sempre qualcosa tra le altre cose continuavano anche ad arrivarmi cose che avevo ordinato ancora a dicembre su su aliexpress mi sono arrivate cose tipo una dei porta chiavi con i brani di spotify mi sono arrivati dei copriletti di super mario dopo ho continuato a arrivarmi l'ultima cosa mi è arrivata tipo a metà febbraio cose del genere non mi sono rimboccato quindi le maniche ho preso tutto con lentezza per aver sempre qualcosa da fare tutti i giorni questa è la realtà mi sono rimboccato i pensieri però quello sì ho cercato di una specie di sfida fuori tempo massimo per molte cose purtroppo una specie di sfida per vedere ok e adesso che sei qui solo cosa fai? era questione di farcela o non farcela so che potrebbe far sorridere molte persone sta cosa qua però va sicuro che non è stato così perché quando comunque la vita cambia in una notte in un giorno cambia in un giorno e non ci puoi far niente resti spiazzato e allora da un colpo di reni e quel colpo di reni comunque devo essere sincero mi ha portato qui ma soprattutto mi ha portato a cioè è stata la mia salvezza sta casa alla fine l'ho creata nel corso dei mesi a mia immagine e somiglianza ossia piena di cose assolutamente inutili gli armadi sono pieni di come ho detto anche ieri o l'altro ieri di vestiti ne avrò usati due o tre per ogni cosa piena di ciabatte ne bastavano una un paio però essere sincero ma proprio è stata la mia salvezza avrei dovuto capirlo prima sì purtroppo sì però alla fine siamo fatti così a volte la paura la pura non è che non ti fa andare avanti ok la pura però ti fa fare dei passi con tempi molto lunghi a volte per scoprire che comunque era quello che avresti voluto ciao va bene buonanotte e alla prossima grazie a tutti